Coltivava piante di marijuana all'interno di un appartamento nel quartiere Forcellini, nel quale aveva installato una serra clandestina, il 31enne, che è stato sorpreso e denunciato alla finanza di Padova. Tutto è partito da un'indagine fiscale delle fiamme gialle, che hanno individuato in un altro 31enne padovano, gravato da precedenti dispaccio, un tenore di vita incoerente rispetto alla propria posizione fiscale, viveva abitualmente in un hotel della città. All'alto dei militari è sfrecciato con la moto di grossa cilindrata, costituendosi però poche ore dopo. Da lì sono scattate le perquisizioni nella stanza d'albergo, dove sono stati rinvenuti 17.000 euro in contanti e una piccola quantità di hashish e marijuana, diverse sim, telefoniche e dispositivi elettronici utili per ricostruire il giro d'affari in cui era coinvolto anche un terzo soggetto, impiegato del 69, fiancheggiatore degli spacciatori, deferito all'autorità giudiziaria per favoreggiamento. Le attività di perquisizione e sequestro sono state compiute anche grazie all'ausilio dell'unità cinofila.